Siamo in compagnia di Elisabetta Volontè, titolare dell'azienda di famiglia Iteritalia, benvenuta. Prodotti e novità che presentate quest'anno al Cosmoprof? Allora, la nostra novità quest'anno al Cosmoprof, preciso che noi siamo un'azienda storica, nata nel 1956 come saponificio, e via via ci siamo evoluti, abbiamo creato questa commerciale perché inizialmente eravamo produttori in conto terzi per grandi aziende e poi abbiamo sviluppato anche il nostro marchio per proporre saponette al nostro marchio. Quest'anno portiamo una novità nel campo del sapone, è un sapone prodotto con olio di palma certificato RSPO, ovvero olio di palma proveniente da piantagioni con coltifazioni ecosostenibili perché ultimamente diciamo che il tema è quello di utilizzare sì olio di palma però di evitare la deforestazione e quindi utilizzando questo olio di palma noi nello stesso tempo ci impegniamo dall'altra parte a piantare foreste per evitare la deforestazione. In più poi abbiamo utilizzato però anche in questo caso del succo di aloe biologico e abbiamo poi anche delle altre varianti con burro di karité biologico e olio di rosa moscheta biologico tutto quindi un tema ambientale. In più anche l'incarto è ecosostenibile perché è certificato FSC ed è stampato con inchiostri a base di oli naturali tutto tema biologico.